Tutto sommato direi che abbiamo guadagnato molto terreno, ma dal giorno in cui siamo arrivati qui non ci siamo avvicinati neanche di un pelo a chi ha fatto fuori Joe. Senti, tutti noi vogliamo pareggiare i conti per quello che hanno fatto Joe, ma ripulire il posto dalle bande è più importante ora come ora. È la ragione per cui è morto, non dimenticatelo. E hanno piantato molto bene le radici. Già, le bande sono qui perché tragano profitto. Qualcuno qui si fa dei bei soldi. Da come parli, mi sa che hai scoperto qualcosa. Non ho ancora ben chiaro l'insieme, ma c'è una grossa organizzazione in Colombia che fa passare la droga da qui. Probabilmente queste bande sono l'occupazione preferita di tanti piccoli stronzi, ma io non credo affatto che siano nel giro del traffico di droga. Sì, beh, in parte hai ragione, Ray. Non sono del tutto immischiati. Vedi, South Point è solo un deposito per questa organizzazione colombiana. Le bande sono pagate per la protezione e la copertura. Ecco perché la gente che produce droga non è qui. Cosa crede che accadrebbe se uno dei loro carichi andasse perso? Allora diamogli un calcio nel culo. Da dove si comincia? Cominciamo con i rollers, i turchi e gli scorpions. Li sorveglieremo giorno e notte. Scopriremo esattamente cosa fanno e poi ci regoleremo. Grazie a tutti.